questa qua diventa la salita del mostro guarda eh no è qua se viene via è la salita del mostro no no deve essere qua che riguarda vedi due occhi e la bocca eh certo se è bravo lo evita se non è bravo si ammazza eh partire tra tutti dobbiamo morire così salita del mostro questa è tu non riterresti quello che viene giù spettacolo arriva qualcuno o no arrivano tutti oh gas eh aspetta lele oh gas da lì sotto eh così salita del mostro eh vai 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 manetta sotto eh veloce eh Luigi gas אני voli cricolico sono ostro es Grazie a tutti.